Oggi prepariamo un'insalata di pasta fresca e gustosa da portare in spiaggia per il pranzo ma anche per un picnic in montagna prepariamola insieme per prima cosa cuociamo la pasta scegliete voi quella che più vi piace e quando sarà cotta la scoliamo e la facciamo raffreddare e la condiamo con il tonno il mais e le olive verdi o quelle nere se più vi piacciono le tagliamo in due e poi la condiamo con maionese un po' di senape sale olio e un po' di pepe nero mescoliamo ed impiattiamo ma è buonissima se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e condividete con i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima ricetta ciao